Tara Gabrieletto è stata negli anni scorsi una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne Il suo percorso con Cristian Gallella all'interno del dating show di Maria De Filippi è stato seguito da tantissimi telespettatori Una storia piena di colpi di scena a causa del carattere forte di entrambi Dopo Uomini e Donne hanno partecipato anche a Temptation Island e anche in quella situazione hanno catalizzato l'attenzione dei tanti fan I due si sono sposati nel 2016 e dopo quattro anni si sono lasciati La loro separazione è stata un fulmine a ciel sereno per i loro fan che li seguono ormai dal 2012, anno in cui conquistarono pubblico e telespettatori di Uomini e Donne La loro storia d'amore, fatta di alti e bassi, aveva infatti conquistato tutti e la scelta finale, fatta durante un ballo senza neppure attendere la finalissima, aveva fatto sciogliere anche i meno romantici Continua dopo la foto, Tara e Cristiana si sono lasciati alla vigilia del loro quarto anniversario di nozze La prima a manifestare un malessere era stata Tara con un video condiviso su Instagram in cui aveva ammesso di vivere un momento difficile A distanza di poco è stato Gallella a mettere la parola fine ai pettegolezzi. Io e Tara abbiamo deciso di separarci Da poco tempo Tara Gabrieletto è tornata a Roma. A sei mesi dalla separazione dal marito Cristian Gallella ha fatto rientro nella capitale, ma i motivi di questa scelta non sono noti Dalle poche stories pubblicate sembra che la Vicentina si trovi nella casa dove ha vissuto con l'ex tromista e questo farebbe pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, ma al momento rimane solo un'ipotesi Continua dopo la foto. A seguito della separazione Tara era rientrata a Vicenza con i tre cani e i tre gatti che con l'ex marito avevano cresciuto insieme Gallella era rimasto nella loro abitazione romana ed era apparso anche sui social sponsorizzando alcune realtà commerciali soprattutto della capitale ma si è anche mostrato in atteggiamenti goderecci con qualche uscita con gli amici che un tempo erano della coppia Continua dopo la foto. Dopo qualche giorno di assenza dai social, Tara Gabrieletto è tornata a parlare con i suoi tanti follower e ha spiegato il motivo del suo silenzio Per lei il rientro a Roma è stato traumatico, infatti è stata messa a coda coliche renali La giovane ha mostrato infatti un frame con la flebo al braccio e ha fatto presente ai followers di essere rientrata a casa dopo le cure mediche 9 gennaio 2021 Grazie a tutti Non vedi tutti Non vedi tutti Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti